Quello che vedete qui accanto a me è un titolo tratto dal sole 24 ore, il successo di Obama, i Big Data. Ma di cosa si tratta? Proviamo a spiegarvelo. Un cittadino e tante cose tutte assieme può essere politicamente conservatore, ma essere contemporaneamente preoccupato per i tagli alla sanità. Questo lo rende sensibile a messaggi diversi, mirati. Se gli parli nel modo giusto, ne conquisti il consenso. Se poi il sistema politico è come quello americano, dove contano gli stati in bilico, le contee in bilico, allora chi raggiunge l'elettore incerto può vincere e conquistare la Casa Bianca. E così da sempre. La differenza è che oggi, con Internet, con i social network, ci sono in rete le informazioni che quel cittadino dà di se stesso, magari rispondendo ad un questionario. Chi le padroneggia a queste informazioni sa come parlargli. Il problema è gestire un'enorme quantità di dati, quelli che in America chiamano Big Data. Ne dispongono i colossi dell'informatica, IBM, ma pure Intel e per un altro verso Facebook e Google. Ma Big Data cambia pure il senso della comunicazione. Dalla democrazia di massa si passa al marketing personalizzato. Puoi raggiungere, con mail, messaggi Facebook, Twitter, interazioni, direttamente il single. Il problema è che se noi stessi mettiamo in pubblico il nostro punto di vista, poi è illusorio credere che nessuno se ne approfitti.